4 times ABS, distesi con la schiena per terra. Gambe sollevate dal suolo di circa 5 centimetri. Inspirare e sollevare la prima gamba fino a formare un angolo di circa 75 gradi, contrarre l'addome durante il sollevamento. Espirare quando la gamba è in posizione verticale. Eseguire lo stesso movimento per l'altra gamba. Riportare una gamba per volta in posizione di partenza, espirando durante la discesa delle gambe. Esegui l'intero esercizio in 4 tempi.